pronti per la battaglia? ma prima intro! benvenuti a tutti nel video della big family ciao a tutti big amici e benvenuti in un nuovo nuovo video allora ragazzi come avete ben capito guardate un po oggi c'è la guerra oggi faremo la guerra che guerra non il che ci prendiamo a pugni anche perché sembra che abbiamo preso un pugno no vabbè Giulia ma la guerra di NERVO questo è il tuo questo è mio ma non è giusto tu ti prendi quello più grande è mio vabbè tanto io un bel po' di proiettili ce li ho beh vuoi mettere a confronto i miei? va bene va bene si si mi sta bene così ok mi terrò il mio e Giulia avrà questo qui per dire il tuo? va bene io sono pronta che inizi la battaglia di NERF allora l'unica cosa le regole sono non sparare nel vetro della porta no non sparare nella vetrina e neanche nella tv non sparare nella tv e soprattutto PS5 vabbè certo se non volete sentire papà urlare se non siamo pritte va bene ok ragazzi e voi per chi ti fate? per mamma Gio guardate per Giulia guardate si è messa anche la maschera da supereroe oppure oppure per Serena scrivetecelo qui sotto scrivete hashtag mamma Gio oppure hashtag Serena oppure hashtag Giulia per chi votate ovviamente andiamo il via a questa guerra a questa battaglia sei pronta per essere sconfitta? sei pronta tu? si ovvio guarda quanti caricatori che ho l'unica cosa che non si spara neanche in faccia ok va bene facciamo attenzione va bene Giulia? guardate quanti quanti cosi che ho forza che inizi la battaglia ragazzi sono in posizione sto cercando di vedere se vedo Serena che viene fuori perché dietro l'altro divano con Gio devo cercare di beccarla ma c'è un canto mamma Gio non mi ha beccato io con il super spara proiettili guardate quanti proiettili ho tantissimi adesso proverò a spararla io proverò aia ma beccato agna agna mi ha un po' perso adesso lei ha un punto io zero niente cercherò di prendere Giulia adesso ma Giulia appunto che fino fa vabbè ho l'idea adesso la frego io visto che lei ha quella più grande io c'ho solo questa che è un po' più piccolina un po' meno frecce ma io ve ne prendere un'altra non dite niente perché se mi scopre sa rabbia adesso andiamo a vedere Giulia dov'è ok ha detto parlerò a Serena che ha detto il divano oh no non l'ho beccata io sono la popote e bitterò non mi ha preso ragazzi sono la più forte adesso dobbiamo nasconderci in un posto migliore perché tutti sanno dove sono quindi Giulia mi sta guardando? no 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 sta guardando Giulia quindi no quindi adesso andiamo con il fucile ragazzi devo cambiare posto però perché Serena mi sa che si è spostata perché non la vedo più dietro il divano dietro l'altro divano con ciò proverò a mettermi dietro la tenda però devo far piano ok ha detto mi porto da qui ecco qui andiamo a sparare la mamma andiamo a sparare la mamma cavoli mi ha sparato ma non mi ha beccato che fortuna adesso cercherò di beccarla io così vediamo un po' almeno siamo alla pari cavolo ragazzi mi sa non l'ho beccata no ragazzi vado all'attacco io adesso non beccherò Serena così penserà che non non gli voglio non gli voglio sparare con ciò beccherò Giulia perché mi sa che è nascosta dietro quel seggiolino state a vedere un po' voglio vincere meglio vincere se non carico se non carico non va la pistola ah io la mamma mi ha beccato il tetelino ma dov'è ma dov'è guarda lì la vedo adesso ma va 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 vai becchata aia 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 quella e barra e barra un po' da me no basta basta si si lo beccarla aia 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 serena aia ma sei pazza ti avevo detto di fermarti mi hai beccato un occhio aia che aia serena che bruciora aia che succede che succede mamma mi hai beccato l'occhio serena come l'occhio aia 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 ma scusa mi hai fatto malissimo mi bruciò da impazzire aia mamma non ho fatto il posto dai basta basta ragazzi chiudiamo quel video dai serena mamma mia aia che dolore no basta basta ragazzi niente ci vediamo domani spero che questo video vi si piaciuto no aspetta aspetta un attimo che adesso li salutiamo fammi un attimo a riprendere aia mi brucia da impazzire aia mi continua a lacrimare aia aia aspetta un attimo spegni due secondi serena spegni due secondi mi brucia aia vabbè ragazzi niente mi brucia troppo niente Rai aia ragazzi noi vi salutiamo aia è rosso aia mi brucia da impazzire ragazzi aia che male mi do piangere niente dai ragazzi chiudiamo quel video dai niente aia basta dai vabbè dai dai non ti preoccupare niente vabbè sennò lo so che non l'hai fatta apposta vabbè ragazzi niente se questo video gli è piaciuto e noi vabbè finiamo qua questa questa guerra anche perché mi hai fatto davvero guerra mi hai beccato mi hai ciecato un occhio serena quasi quasi mi facevi diventare cieca mi brucia ancora adesso un pochino sta passando ma un po' mi brucia ancora mi è fatto basta niente dai non ti preoccupare può capitare dai però la prossima volta state attenti mi raccomando ragazzi anche voi se giocate con i nerf state attenti è vero Giulia? sì non fate mai queste cose dei ragazzi perché potete vedere quello che ha fatto a te la mamma sì avevo paura che se si facesse male Giulia a dire la verità la fine mi sono fatta male io no amore sarà una una moscerina da zanzare anche se a gennaio le zanzare vabbè ancora niente spero vabbè niente ragazzi in pratica hai vinto tu Serena hai vinto Serena facendomi male a un occhio facendomi male a un occhio mi ha proprio atterrato ho vinto io? eh niente ho vinto io? anche hai vinto anche tu sì allora perché mamma Gio ha beccato una volta nel culetto a Giulia è vero? poi ho beccato Serena no Serena non l'ho beccato poi Serena ha beccato me due volte ha vinto Serena con ciò vabbè comunque ragazzi ho vinto anche io ahia mi bruciano occhio dai niente niente chiudiamo noi vi salutiamo ragazzi aspetta dobbiamo salutare la nostra big amica Rossi ciao Rossi ciao Rossi penso che sia Rossella penso comunque lei mi ha scritto Rossi e se la salutavamo un bacione grande 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 magari il mio nome è Rossi no 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 perché come l'ha scritto penso che sia un abbreviato un bacione grande della big family mamma Gio ti saluta con l'occhio accecato che mi ha accecato Serena e vabbè dai può succedere fa niente ciao ragazzi ah Giulia che mi serve a me da me che magari non vedo forse è un po' meglio vabbè ragazzi mi serve niente oh no mi brucia vabbè dai spero che questo video vi sia piaciuto se il video vi sia piaciuto spolliciate iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto attivate la campanellina per non perdervi nessuna nostra avventura e disavventura come quella di oggi che Serena ha beccato mamma Dottor Lotto sì una brutta disavventura grazie a tutti per i 13.000 iscritti ragazzi vi abbiamo superati grazie veramente un'emocenza è vero sì dai speriamo di crescere sempre di più siete magnifici vi vogliamo un mondo di bene e speriamo di andare avanti così aspetta l'occhio a me brucia vabbè comunque commentate condividete commentate condividete seguiteci sui social instagram tiktok instagram sì non perdetevi nessun nostro video è vero comunque ragazzi abbiamo riaperto il nostro profilo tiktok nuovo mi raccomando veniteci a seguire lì perché avevamo un bel po' di follower adesso siamo a zero ragazzi siamo a zero abbiamo perso tutto tutti i nostri video anche i nostri ricordi che avevamo messo infatti siamo molto dispiaciute però vabbè pazienza speriamo di riniziare a che iniziate anche voi a risseguirci anche veniteci a risseguire sul nostro profilo di tiktok nuovo che è bigfamily 8513 mi raccomando vi aspettiamo perché siamo molto triste per questo fatto qui abbiamo perso tutto anche i nostri follower su tiktok vabbè l'importante è comunque che siete qui su youtube è vero niente ragazzi noi vi salutiamo un grandissimo bacio a tutti e ci vediamo con un prossimo video della big family ciao veganici ciao mi raccomando e voi non fate più non fate la battaglia come abbiamo fatto noi con i nerf o perlomeno state attenti ciao oh yeah andrò a medicarmelo adesso ciao ragazzi ciao